Ha! Adesso il mio studente avanza di una casella e ti attacca! Ah, tu però nel frattempo ti giri e vai dall'altra parte. E vabbè, il mio studente fa una mossa del tutto insensata. Sarà scivolato su una buccia di banana, toh, mettiamola così. Sennjutsu Battle for Japan e noi a suo tempo aderimmo a questa campagna. Allora amici, come funziona questo gioco? Come è nostra consuetudine nelle nostre analisi critiche prima di entrare nel vivo? Facciamo un veloce riassunto delle regole, ricordandovi però sempre che abbiamo anche un tutorial con esempio di gioco molto dettagliato che potete andare a consultare se volete sapere le regole più nel dettaglio. Qui saremo estremamente veloci, ragazzi, con il nostro tutorial, perché questo gioco ha uno scheletro molto semplice sul quale si innestano però mille regolette, mille eccezioni, ecco, di quelle non parleremo in questo video. Ci concentreremo semplicemente sul suo scheletro essenziale. E il suo scheletro essenziale è il seguente. I giocatori controllano, diciamo che il gioco è pensato soprattutto per due giocatori, ok? Ha anche una modalità in solitario, si può giocare anche in tre o in quattro, insomma, è fondamentalmente pensato come un duello fra due guerrieri, no? Nel Giappone, nel Giappone medievale. I guerrieri sono rappresentati da miniature che si muovono su delle plance, ok? Si possono scegliere plance di vario tipo, guardate, quella di default è questa qui che mostra questo territorio innevato, noi ce l'abbiamo sotto forma di playmat, probabilmente nelle versioni non deluxe, non è, cioè, questa qui sarà di cartone, adesso non lo so di preciso, noi abbiamo la versione ultra mega, ultra mega deluxe, e questo campo di battaglia può essere allestito come i giocatori preferiscono, per esempio possono metterci dentro anche degli ostacoli, no? Degli elementi del paesaggio che ti costringono a manovrare il tuo guerriero con più difficoltà, oppure lo si può anche lasciare completamente libero, si può anche scegliere la casella di partenza, a patto che tutti siano d'accordo. E ogni personaggio nella versione base del gioco ce ne sono quattro, quattro guerrieri diversi, che sono il warrior, il master, lo student e il ronin, ok? Questi quattro, questi quattro personaggi, adesso io qua ho il warrior e lo student, credo, no, il master, scusate, e lo student, e ogni personaggio ha il suo mazzo, ok? Attenzione, in realtà questo gioco implementa anche la costruzione del mazzo, cioè se volete potete costruire liberamente il mazzo del vostro guerriero, però seguendo delle regole, alcune carte valgono molti punti, altre valgono meno, c'è un sistema di punti acquisto praticamente delle carte, o meglio c'è un sistema in base a cui alcune carte possono essere incluse in più esemplari, altre in meno esemplari, alcune carte sono esclusive per determinati personaggi, hanno proprio il nome del personaggio sopra, quindi possono essere usate solo da quel personaggio, però se non avete voglia di dedicarvi a questo aspetto, e noi non ce ne siamo mai dedicati, devo essere sincero, potete tranquillamente utilizzare i mazzi predefiniti, diciamo, il manuale spiega come comporre i mazzi predefiniti per ogni personaggio. Questi mazzi vengono mescolati, ok? A inizio partita ogni giocatore pesca cinque carte, no? Cinque carte, e ogni giocatore oltre alle carte che ha pescato dal mazzo avrà sempre a sua disposizione una core card, cioè una carta, diciamo, inestricabilmente collegata al suo personaggio, per così dire, che sarà sempre a disposizione, e anche una weapon card, e anche quella carta sarà sempre a sua disposizione. La weapon, l'arma, può essere scelta fra varie opzioni, ogni personaggio, ogni guerriero ha determinate armi fra cui può scegliere, ok? Così facendo, questo è il setup, diciamo, una volta preparato il mazzo, pescate queste cinque carte, si può iniziare la partita. E ogni round di gioco, diciamo, ogni turno, funziona in questo modo. I giocatori contemporaneamente pescano una carta dal loro mazzo, ok? Control, guardano le loro carte e scelgono di giocarne una, ne giocano una coperta davanti a sé, ok? La carta giocata può essere anche o la core card o anche la weapon card, ok? A seconda della scelta effettuata dal giocatore, oppure una delle carte, appunto, pescate dal mazzo, ok? Molto bene. Quando entrambi hanno scelto, si rivelano le carte contemporaneamente, ok? A quel punto si deve stabilire qual è la carta che agisce per prima, e lo si stabilisce sulla base del valore di iniziativa della carta. Le carte hanno tutto un valore di iniziativa, quella che ha il valore più alto partirà per prima. Se c'è una situazione di parità, e si verifica abbastanza spesso, bisogna controllare la tipologia di carta. Per esempio, le carte difesa agiscono sempre prima delle carte attacco, ok? Se c'è ancora parità, bisogna controllare la posizione del personaggio nella tabella qui dell'iniziativa generale, diciamo, ok? Però vabbè, non succede molto spesso, diciamo. Una volta che si è stabilito l'ordine in cui agiranno le carte, le carte vanno attivate. E le carte vanno attivate semplicemente andando dall'alto verso il basso, ok? E risolvendo tutte le loro abilità, ok? Attenzione perché alcune carte hanno dei prerequisiti. A volte il prerequisito è il pagamento di focus. Nel corso del gioco, i personaggi possono ottenere questa risorsa. Il focus sarebbe la concentrazione, in pratica, rappresentata da questi tondini viola, ok? E alcune carte richiedono, addirittura alcune richiedono di spendere focus proprio per giocarle. Altre richiedono di spendere focus per potenziarle, per così dire, ok? A volte le carte hanno anche un altro requisito, però. Richiedono che il nostro personaggio abbia una certa cama, una certa posizione. Guardate, ogni personaggio ha questo schema dove muoveremo l'anellino del colore del nostro personaggio a indicare qual è in ogni momento la sua stance, per così dire, la sua posizione di battaglia. Potrebbe essere offensiva, potrebbe essere difensiva. E alcune abilità possono essere attivate, alcune carte, ma anche alcune abilità delle carte, possono essere attivate solamente se il personaggio è in una cama precisa, ok? Muoversi, tra l'altro, lungo questo tracciato è anche il modo principale per ottenere focus. Molte carte richiedono una certa cama, molte altre ci fanno spostare all'interno di questo tracciato, quindi ci fanno cambiare la nostra cama e anche ottenere focus, ok? Tra le abilità che le carte possono avere, c'è muovere il nostro personaggio, a volte il movimento è obbligatorio, a volte è facoltativo. Ruotare il nostro personaggio, perché ogni miniatura ha, diciamo, un fronte e gli attacchi si rivolgono solo a determinate, verso determinate direzioni, quindi questa è una parte molto importante del gioco, no? Potrebbe essere necessario manovrare il nostro personaggio anche proprio dal punto di vista della direzione in cui sta guardando, ok? Altre carte permettono di sferrare attacchi, ovviamente, no? E quando un attacco va a segno, ok? Alcune carte sono difensive, no? Quindi fanno, praticamente bloccano gli attacchi, ok? Se l'attacco però va a segno, fa ottenere al personaggio che l'ha preso, fondamentalmente, una ferita, vedete? E questo è anche un po' il timer, no? Quando un personaggio ottiene 5 ferite, è immediatamente sconfitto, ok? Quindi lo scopo è infliggere ferite, ok? Al nostro avversario. Ci sono anche altre condizioni, eh? Non ci sono solo le ferite, altre condizioni negative. Per esempio potremmo essere stun, potremmo essere, come si può dire, estorditi, ok? Le carte stun ce le dobbiamo tenere in mano, e praticamente ingolfano la nostra mano, no? Rendendola effettivamente più, più, più piccola, diciamo. Se a un certo punto abbiamo un numero di carte stun pari alla grandezza della nostra mano, siamo immediatamente sconfitti, ok? Oppure c'è l'effetto hub ball, il rallentamento tipo che abbassa tutta l'iniziativa delle carte, ok? Però, come vi dicevo, il gioco ha mille regolette, eccezioni, casi particolari, quindi ecco, io mi limiterò a qui, mi fermerò qui con questo veloce, con questo veloce riassunto delle regole. In caso andatevi a vedere il tutorial con esempio di gioco, ok? È un gioco molto breve, la scatola dice che le partite durano 20 minuti, all'inizio vi sembrerà che siano stime molto ottimistiche, in realtà guardate che possono veramente durare 20 minuti, non è una roba così strana. Quando si inizia a prendere un po' la mano, diciamo, non è una roba così strana che le partite durino 20 minuti, ok? Allora, amici, com'è Senjutsu Battle for Japan? Allora, prima di iniziare l'analisi critica, devo fare delle doverose premesse, ok? Allora, io non sono per nulla un esperto di giochi skirmish, ok? Potremmo dire che l'unico altro vero skirmish che io ho giocato, a parte questo, è Black Rose Wars, che è uno skirmish estremamente diverso, ma è anche quello un gioco di combattimenti, in cui le miniature si muovono, si scontrano, si fanno danno, eccetera, ok? Quindi, diciamo che quello forse è il gioco più imparentato con questo che ho giocato. Ho giocato a diversi wargame, che hanno anche quelli, diciamo, l'idea dello scontro diretto e del danno inferto direttamente, non all'unità avversaria, ma all'esercito avversario, però ecco, pur avendo questo elemento di tangenza, diciamo che lo skirmish è un sottogenere tutto suo, ok? E io sono tutt'altro che un esperto, ok? In questo genere. Però, in occasione, naturalmente, della realizzazione di questa review, ho un po' studiato, come dovrebbero fare tutti i critici degni di questo nome, ho un po' studiato, ok? E quindi penso di essere in grado di fare qualche osservazione, qualche osservazione critica che potrebbe essere interessante, relativa a questo gioco, ok? Allora, io, pur non essendo un grande appassionato, insomma, di questo genere, feci subito il pledge, decisi subito a suo tempo di sostenere questo gioco, perché l'idea mi sembrava molto buona, no? Cioè, l'idea di avere un gioco che occupa poco spazio, perché, guardate, le mappe sono, cioè, questa è la plancia generale di gioco, cioè, ragazzi, è una roba piccolissima, no? Rispetto a tante plance che vediamo in giro. Cioè, il fatto che possa esserci un gioco di combattimenti profondo, molto vario, no? Che occupa poco spazio, si prepara velocemente, si fa, si svolge velocemente e ha un'ambientazione storica, ok? Pur non essendo io assolutamente un giapponista, non essendo io assolutamente un ossessionato dal Giappone, come, come molti nerd invece sono, però ecco, tutti questi ingredienti che ho appena elencato, messi uno di fianco all'altro, mi hanno fatto pensare al suo tempo, porca miseria, questo è un gioco che potrebbe veramente fare al caso mio, no? Perché ho sempre bisogno di giochi interessanti, profondi, che durino poco, no? Per quei momenti in cui hai voglia di giocare, non ti basta il fillerino da cinque minuti, no? Comunque il gioco stupidissimo e brevissimo, vuoi qualcosa, cioè, non hai tempo per una partita vera, per così dire, però hai voglia un po' di arrovellarti le meningi, ok? Ecco, questo gioco sembrava perfetto, no? Per questo tipo di approccio. Poi comunque io sono uno che, per esempio, a Commands and Colors ha giocato veramente centinaia e centinaia di partite, no? Quindi, diciamo che la mia posizione nei confronti di giochi che implementano lo scontro diretto non è così, come si può dire, dogmatica come quella che hanno tanti appassionati di Eurogame, no? Che invece tendono a essere assolutamente lontani proprio dall'idea dello scontro diretto, ok? Non è che i giochi che implementano lo scontro diretto mi facciano schifo a prescindere, ok? Quindi, anzi, questo qui mi attirava molto, appunto, per tanti motivi, no? Quelli che ho detto prima, ok? Però, amici, devo dirvi che non sono particolarmente soddisfatto del gioco, ok? Non sono particolarmente soddisfatto del modo in cui le ottime idee di partenza sono state implementate, ok? Secondo me questo è un gioco che nel tentativo, appunto, di essere profondo, complesso e vario, cade più e più volte nella trappola della ipertrofia, nella trappola della esagerazione, ok? Intanto, esagerazione produttiva, ok? Se tu mi fai un gioco che dura poco, dal setup molto veloce, ok? Dalla table presence tutto sommato modesta, nonostante, insomma, la presenza di miniature, ma insomma modesta in termini di dimensioni, no? E poi me lo piazzi dentro una scatola così, dentro una scatola enorme così, allora, questa è vero che è la big box, no? Che include anche le espansioni, no? Questo gioco è già stato espanso in fase di campagna kickstarter, come succede quasi sempre, insomma, per i giochi che vengono prodotti tramite crowdfunding, poi faremo un piccolo accenno anche su questo, perché è stata gestita veramente male questa campagna, ma ci torniamo dopo su questo aspetto. Dicevo, anche la versione non big box, ok? È comunque, cioè, è grande come una scatola di un gioco normale, per così dire, ok? Ecco, già questo non va bene, cioè, io mi aspetto che un gioco, appunto, di questo spessore, di questa durata, di questa, no, di questa, di questa, di questa nicchia, per così dire, non abbia, no, tutta sta roba dentro la scatola, ok? Allora, qual è il, 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 il problema, uno, insomma, uno, quali sono le modalità attraverso cui questa ipertrofia si manifesta in questo gioco? Beh, per esempio, attraverso la presenza di tantissime carte, attraverso la presenza di tantissime carte e attraverso la volontà di implementare il deck construction, ok? Allora, a me può andar bene che tuo autore implementi il deck construction, ok? Però, allora, secondo me a quel punto devi fare non tanto una scatola unica del gioco, ma devi fare un sistema di gioco, cioè, secondo me questo gioco, questo prodotto pecca nel voler essere un sistema di gioco tutto dentro una scatola e secondo me in questo caso non funziona tanto bene, ok? Allora, posto che tantissimi degli appassionati non si dedicano al deck construction e basta andare a vedere il forum del gioco per rendersene conto, ok? Quindi, posto che il deck construction sembra interessare, almeno a giudicare da quello che leggo scritto dalla community, una piccola parte di chi si è avvicinato a questo gioco, cari autori, mettete il deck construction, cioè, fate sì che il deck construction sia un suo compartimento che io compro se ho voglia di comprare, ok? Guardate cosa arrivo a dire, volete mettermi, volete mettermi comunque tutte le mille mila carte disponibili per fare il deck construction più vario del mondo all'interno della scatola base? Va bene, ci sto dentro, però almeno preparatemelo voi, è il mazzo di default del personaggio, ok? Invece sapete cosa succede quando è vero che il setup di una singola partita è rapido, è rapido se hai già il mazzo del personaggio messo assieme però, ok? Cioè, quando apri il gioco devi passare un sacco di tempo a mettere assieme i mazzi di tutti e quattro i personaggi, a comporli, perché le carte sono semplicemente impacchettate in ordine numerico, no? Quindi, per esempio, siccome ogni carta è presente in più copie, quasi tutte, le carte presenti in più copie sono tutte vicine, no? Sono tutte vicine perché hanno lo stesso numero, diciamo, ok? Quindi tu devi passare un sacco di tempo a prepararti il mazzo per i personaggi, cioè è come se loro nel manuale ti dicono guarda, se vuoi puoi dedicarti alla deck construction, però a tutti gli effetti quando apri la scatola devi dedicarti alla deck construction, ok? Perché non è che ti abbiano già preparato il mazzo, avrei visto molto meglio questo gioco se avesse avuto una scatola base con i mazzi precostituiti dei personaggi e poi un'espansione con delle carte aggiuntive e il sistema di deck construction, ok? Così il sistema di deck construction lo confiniamo, cioè lo dedichiamo specificamente a chi vuole dedicarci CV, ok? Molto bene. Poi amici, ma vabbè, questo era una delle prime manifestazioni appunto di questa ipertrofia, ma andiamo più nel dettaglio, nel modo in cui l'ipertrofia si manifesta nel sistema di regole e questa è una cosa decisamente più grave che non nelle questioni metagaming appunto tipo il problema della costruzione del mazzo, ok? Perché dico che anche le regole sono ipertrofiche? Allora, anche le regole sono ipertrofiche perché nel gioco, cioè il gioco, questo gioco appunto nel tentativo di essere profondo e complesso introduce, le carte hanno mille icone, mille combo fra azioni diverse, ok? mille eccezioni nelle regole e tutto questo porta ad avere nel corso della partita mille dubbi, ok? Mille dubbi, ma bisognerà fare prima questo o prima quello? Ma questo sarà obbligatorio o facoltativo? Ma dovrò fare così o dovrò fare cosa? Ma questa roba qui scatterà prima o dopo il tu, ma posto che abbiamo lo stesso numero, posto che tu hai la carta di difesa che dovrebbe partire prima la tua, però in realtà quella difesa lì ha senso solo se è partito anche il mio attacco come fai a fare il contrattacco se non è partito l'attacco? Però dovrebbe partire prima la carta di difesa, però è la carta di difesa che ha il contrattacco, cioè allora saremo lì a dibattere su queste robe, ok? Su questi massimi sistemi nel corso di gran parte dei turni di gioco, almeno all'inizio quando, no, non ci saremo chiariti del tutto le idee, i forum su World Game Geek sono pieni, no? di dubbi di qualunque tipo e non è un caso che gli autori abbiano pubblicato delle FAQ, ok? delle domande, e hanno addirittura pubblicato, pensate, mesi e mesi dopo il rilascio del gioco, questo è segno di un gravissimo problema il fatto che abbiamo dovuto fare questo, una guida passo passo a una partita per due giocatori, ok? Se andate nel sito di Stone Sword Games hanno pubblicato questa guida passo passo, ok? Che proprio fa vedere come si gioca una partita vera a questo gioco, ok? Quando tu devi fare una roba, devi pubblicare una roba del genere, ok? Vuol dire che il tuo gioco è spiegato malissimo e infatti ragazzi il manuale di questo gioco che peraltro ragazzi guardate che roba, cioè per un gioco di 20 minuti un manuale di 40 pagine, cioè già questo, 40 pagine scritte abbastanza fitte, già questo dovrebbe far capire che insomma no, qui si è voluto un po' esagerare forse, nel mettere assieme tante cose, tante regole, tante regolette, tante sottoregolette, ok? Ragazzi, questo manuale è fra i più tremendi che mi sia mai capitato di leggere, ok? È uno di quei manuali che passa tutte le prime pagine a spiegare concetti generali, ok? Amici che fate i manuali dei giochi, per somma cortesia, se volete scrivere delle robe che riguardino concetti generali, sapete cosa dovete fare? Dovete scrivere un libro sui giochi da tavolo, ok? Scrivete un libro sui giochi da tavolo in generale e la parlate di tematiche generiche, no? Come piace a voi, ok? Quando mi fate il manuale, ok? Il manuale deve essere così, contenuto della scatola, setup, struttura del round, turno, così deve essere. Se non è così, se prima di scrivere il setup, dove sentite il bisogno di dire, ma prima lascia che ti spieghi, lascia che ti faccia vedere, no? Com'è? Cioè, guarda, questo qua, guardate, in questo qua, allora, il setup del gioco, eccolo qua, inizia a pagina 10, ok? Cioè, guardate, tutta sta roba qua, sono tutti concetti generali, ok? Sono tutti concetti generali, a cui il manuale fa riferimento poi più avanti, ma tu non ti ricordi più niente quando fa riferimento a questi concetti generali, ok? Ragazzi, un manuale terribile, veramente terribile, ok? Che butta lì regole importanti, come se niente fosse, in punti dove è impossibile ritrovarle, ragazzi, un design, infatti hanno dovuto fare questa guida passo a passo, per far capire come questo gioco deve funzionare, diciamo, ok? Però ragazzi, cioè, al di là di come questo, anche se questo gioco fosse spiegato benissimo, ok? Ha proprio un problema intrinseco di eccessiva, non la definirei complessità, proprio di eccessivo, di eccessiva confusione nel modo in cui le regole sono state implementate, di eccessiva confusione, di ipertrofia che sfora anche nella, proprio nella ridondanza, no? Per esempio, ci sono mille modi per decidere quando una carta parte prima e quando una carta parte prima, ma porca miseria, non basta un modo solo, ok? Avete il modo del numerino qua, è benissimo, fate che sia solo quello, fate tutte carte con numeri diversi, porca miseria, e fate che se l'attacco parte prima della difesa, allora la difesa è andata, scusate, se la difesa parte prima dell'attacco è andata a segno, invece no, devono, la difesa deve avere esattamente lo stesso valore dell'attacco, quindi devi cercare, le carte di difesa hanno una forbice, no? Quindi lì a quel punto sarai pari, a quel punto dovrà partire prima la difesa, però ti incasinerai su mille altre cose, ok? Poi, è proprio necessario che fai le carte instant replacement, instant addition, ma porca miseria, se sembrano fatte apposta per complicare, per complicare le cose, ok? Come funziona? Funziona che tu, come dicevo prima, ogni giocatore sceglie la sua carta da giocare, no? Poi i giocatori rivelano contemporaneamente le carte, poi se uno ha una carta instant replacement in mano, può buttare via la carta che ha giocato e giocare a quell'altra invece, ok? Perché si è reso conto che la carta giocata in prima istanza non avrebbe avuto un buon effetto contro la carta giocata dall'avversario, allora ne gioca un'altra, ok? Boh, cioè sta roba qua, sta roba qua me la sarei vista bene, ok? Questa regola ci doveva essere, magari doveva essere la regola speciale di un personaggio, che ne so, fai sì che un personaggio abbia i riflessi particolarmente pronti, no? Magari un personaggio che introduci nell'espansione e gli dai questa regola dell'instant replacement, non darla a tutti che è solo una roba che complica le robe di più inutilmente, ok? Hai giocato una carta che non ha un effetto, vabbè, fatene una gran ragione, ne giocherai una più bella al turno dopo, ok? Cioè, no, ci sono alcune regole che veramente sembrano, 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 poi la regola del contrattacco, tutti questi diversi tipi di danno, ok? A volte ci sono regole particolari per quando ci si spinge, quando ci si attira, ragazzi, secondo me questo gioco è un casino, cioè, è troppo, è troppo pieno di roba, è troppo poco streamlined, ok? Sapete, allora, attenzione, sapete qual è il, perché qualcuno di voi potrebbe a questo punto ribattere, no? E avrebbe anche ragione, forse, ma scusami, loro volevano fare un gioco molto complesso, quindi questo qui evidentemente è dedicato a un target di pubblico diverso da quello che sei tu, ok? Ok, va bene, ci sto dentro, in realtà non credo sia tanto quello il problema, ok? Il problema è che questo gioco, sapete qual è una delle critiche che più diffusamente si leggono su Board Game Geek riguardo a questo gioco, che sembra completamente casuale, ok? Cioè, pur non avendo tecnicamente dadi, no? Non si lanciano dadi, ok? Quindi non, no? Pur non avendo elementi evidenti di alea, uno pesca, no, le carte dal mazzo, potrebbero capitare le carte buone o carte cattive a seconda della circostanza, e poi siccome bisogna giocarle al buio, queste carte, no? Cioè, tu non sai cosa, cosa giocherà il tuo avversario, magari tu, no, hai il tuo avversario davanti, perfettamente così, ok? Quindi giochi un attacco che fa danno nella casella davanti, però gioca prima lui e se nel frattempo si sposta, ok? Quindi il tuo attacco, cioè, sembra che, no, molti dicono, cavolo, sembra che dipenda tutto dalla fortuna, cioè dal caso, cioè se hai la fortuna di giocare la carta giusta al momento giusto in funzione di quello che gioca il tuo avversario, boom, se no sei rovinato, ok? Attenzione, in realtà, secondo me, chi fa questa critica? E, allora, non è che questa sia una critica ingenerosa, questa forse è una critica, però, che tradisce un po' di ingenuità, diciamo, di fondo, ok? Però, ecco, il fatto che questa critica sia così presente, che questa, che questa perplessità sia così presente, è indice di un problema, ok? Quindi, allora, qui potremmo aprire una grande parentesi, ragazzi, questo forse è un tema che starebbe bene per un discutiamone, fatemi sapere, fatemi sapere cosa ne pensate, se il pubblico ha una determinata reazione negativa nei confronti di quel gioco, del tuo gioco, che deriva dal fatto che il pubblico sostanzialmente non ha capito uno o più comparti del tuo gioco, non è un problema del pubblico, è sempre un problema dell'autore, è sempre un problema dei produttori, no? Perché a volte c'è un po' questo misconception, va di moda a dire io non sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci, ok? Ragazzi, questa è una idiozia, ok? Cioè, un'opera di comunicazione presuppone uno che comunica e cerca di farsi capire dall'altro, se no cosa stai comunicando a fare, ok? Stai facendo un soliloquio se non hai interesse a farti capire dal tuo interlocutore, ok? Quindi, tu che stai realizzando un gioco, va bene? non è che il tuo gioco lo compra gente a caso, il tuo gioco lo compra un pubblico che pensa di essere interessato al tuo gioco. Se gran parte del pubblico che pensava di essere interessato al tuo gioco esprime delle perplessità, magari anche ingenue, come quella di cui stiamo parlando, è un problema tuo, amico autore, amico produttore, non un problema del pubblico, cioè non puoi dire al pubblico, guarda, non hai capito, questa roba non l'hai capita bene, ok? Sei un po' scemo, a volte ci sono alcuni, guardate che, ci sono alcuni servizi clienti, che quando fai delle crie rispondono in questo modo qua, ragazzi, è follia, follia, cioè ti danno la colpa del fatto, siccome il gioco, cioè gli dici guarda il tuo gioco non mi è piaciuto e danno la colpa a te praticamente, ok? Che non ti è bene, ragazzi, oh, il cliente ha sempre ragione, questa invece è una massima che bisognerebbe, che bisognerebbe riscoprire da parte dei produttori e degli editori, ma torniamo, torniamo a bomba, ok? Perché stavo dicendo che affermare che questo gioco è, come dire, sembra determinato dal caso è una critica un po' ingenua, beh amici, è una critica un po' ingenua perché in realtà questo è ciò che succede nelle prime partite, ok? Nelle prime partite noi non conosciamo le abilità dei personaggi, non conosciamo i mazzi dei personaggi, almeno se stiamo usando i mazzi di default, ovviamente, a parte che anche se stiamo usando la deck construction, comunque appunto ci sono tante carte esclusive dei personaggi che presumibilmente siccome sono di solito potenti le carte esclusive, più o meno ci saranno, di solito, insomma, anche nei mazzi costruiti, diciamo, direttamente dai giocatori, ok? Man mano che si fanno partite si inizia a prendere confidenza con le carte del personaggio, si inizia per esempio a capire che un certo personaggio è più portato agli attacchi in corpo a corpo, un altro invece usa un'arma lunga e ti prende anche se sei a due caselle di distanza, un altro è molto rapido nei movimenti, un altro è più lento, c'è il Ronin che ha la corazza pesante quindi è più lento, la sua iniziativa tenderà ad essere più bassa, no? Cioè si iniziano a imparare, si iniziano a imparare un po' di cose, no? A quel punto si gioca in maniera molto più strategica, no? A quel punto si gioca tenendo in considerazione il fatto che il nostro avversario potrebbe avere quella carta, fare quella mossa, è importante qui anche la memoria, no? Cioè è importante avere presente le carte che sono già passate, no? So io che nel mazzo di quel personaggio c'è quell'attacco particolarmente infame e quell'attacco particolarmente infame finisce negli scarti senza nessun effetto perché è stato giocato o anche per qualche altro motivo perché, boh, è stato scartato per altri motivi. Eh, ragazzi, se io lo vedo, no? Non tutti gli scarti vengono scartati scoperti, eh, a volte vengono anche scartati coperti, vabbè, giusto per complicare anche questa è una regola, cioè di cui si sentiva proprio tantissimo il bisogno, ma vabbè, non importa, cioè bisogna fare due mazzi degli scarti per ogni persona, uno coperto e uno scoperto, vabbè, lasciamo per follia, lasciamo perdere, e quindi dicevo, se io vedo che quell'attacco è già stato giocato, cavolo, no? A quel punto sarò molto più rilassato, no? Ah, già, no? Il personaggio le sue cartucce migliori le ha già spese, diciamo, Quindi adesso è una passeggiata, ok? Dovrò essere magari meno sulla difensiva, no? Le carte difesa noi ci troveremo nelle prime partite, a giocarle molto poco le carte difesa, ci sembreranno uno spreco, no? Visto che alla fine gli scontri sono rapidi, bisogna dare cinque ferite prima dell'altro, giocheremo sempre agli attacchi, almeno nelle prime partite faremo così, no? A un certo punto invece capiremo, prendendo confidenza con i mazzi, quanto può essere importante una carta difesa giocata al momento giusto, no? Quando vediamo, quando sappiamo, bisogna sapere però, ok? Cioè, quando sappiamo che il nostro avversario ha quell'attacco particolarmente potente che deve ancora giocare, ok? Vediamo che si sta posizionando esattamente nel modo per sferrare quell'attacco, allora, pam! Giochiamo la carta difesa che magari prevede anche un contrattacco, no? Eh, questa roba dà soddisfazione, ok? Sperate qual è il problema, amici? Perché dico che la critica, no? Sembra tutto dominato dal caso è ingenua, ma è comunque il fatto che esista così diffusamente è comunque colpa degli autori. Perché in questo gioco si riesce ad avere questo livello di confidenza che ho descritto non dopo due, tre partite, ma dopo dieci, venti, trenta partite, ok? Ragazzi, questo gioco è fortemente contraddittoria, ha un'identità fortemente contraddittoria, cioè secondo me è questo il suo problema principale, ok? ha un'identità fortemente contraddittoria perché è un gioco breve e ha una scatola enorme, ok? È un gioco breve e ha un manuale grosso così, pieno di regole, regolette, eccezioni, controeccezioni, ok? È un gioco breve che sembra dover occupare la nicchia dei filler e per poterlo veramente capire e godere bisogna giocarlo per 20-30 volte, ok? Quindi è un gioco che richiede moltissima dedizione, ok? Richiede dedizione, studio, impegno, va bene? Cioè dovrebbe essere scritto sulla scatola proprio, no? Le partite durano 20 minuti? Molto bene, però dovrete farne a decine di partite che durano 20 minuti e dovrete farle in maniera, proprio con l'idea di starvi allenando, come quando vi state allenando per una maratona, ok? Stessa roba, ok? Qui dovete giocare tantissime ore a questo gioco solo ed esclusivamente per studiare, per allenarvi, ok? A quel punto, a quel punto e riuscirete a godervelo, ok? Se vi piace questo genere, se vi piace questo genere di gioco e anche se siete disposti, attenzione, questo è un punto non indifferente, a passare sopra tutti i milioni di dubbi che comunque vi verranno giocando, ok? Anche quando avrete preso confidenza col gioco, semplicemente perché il sistema di regole è troppo incasinato ed è spiegato malissimo, ok? Guardate, vi faccio vi faccio un esempio del, 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 vabbè, del, no, delle robe che mi fanno perdere la ragione veramente in questo gioco di alcune cose. Allora, alcune carte richiedono il pagamento di focus. Sarebbe stato troppo semplice mettere il simbolo del focus solo in quelle carte? No. Hanno messo il simbolo del focus in tutte le carte, ok? Però, quando il focus non è richiesto c'è il simbolo del focus però tutto grigetto, ok? Invece nelle 3-4 carte del nostro mazzo che richiedono il focus che sono pochissime rispetto alle altre allora il simbolo del focus è colorato, ok? Dovranno aver pensato mentre stavano raccontando come facciamo a far confondere il più possibile il giocatore riguardo al focus? Sai che c'è? Mettiamo il suo simbolo ovunque, ok? Mettiamo il suo simbolo ovunque così no? Penseranno che serve il focus sempre e solo dopo una partita magari si accorgeranno che non serviva il focus sempre per giocare per giocare quelle carte, ok? Oppure ragazzi cioè e la fascia nera e la fascia colorata e la cioè sono troppe pieni di simboli queste carte troppo pieni di simboli ragazzi e questa è una carta meditazione e quell'altra è una carta di anche sti generi delle carte a cosa servono? Se hanno lo stesso valore bisogna guardare quello per decidere chi attacca prima chi attacca dopo cioè ragazzi veramente allora sapete qual è un altro commento molto diffuso su su board game geek ecco questa è questo è il commento diciamo la versione meno ingenua del commento di prima ok? che dice che sembra che sia tutto determinato dal caso la versione meno ingenua è volete uno skirmish che vi fa divertire fin dalla prima partita prendete unmatched ok? questo è proprio un commento che si vede che si vede che si vede spessissimo prendete unmatched ok? tra l'altro io unmatched non l'ho mai giocato ok? vabbè non fatemi partire con un altro rant se facessero una versione di unmatched con un tema per persone normali ok? magari potrei considerarlo no? se ci fosse un unmatched con uno scontro sensato e non fantozzi contro batman o la spinge contro voldemort o ma porca mia ragazzi ma perché perché i giochi da tavolo a volte hanno questi temi così stupidi così assurdi perché perché vabbè basta fine anche questo meriterebbe forse un video dedicato comunque io non ho mai giocato ad unmatched però questo è un commento diffusissimo no? e se ci pensate appunto è un po' è un po' la versione no? cioè siete disposti a studiare tantissimo prepararvi tantissimo ok? affrontare le prime partite a questo gioco proprio come si affronta un lavoro oserei dire ok? devo imparare tutte le regole devo cercare di memorizzare le carte dell'avversario ok? devo fare questa roba devo passare sopra tutti i possibili dubbi no? bisogna accettare il fatto che alcune incertezze magari le risolveremo direttamente al tavolo no? cioè faremo una house rule così proprio al volo diciamo per cercare di risolvere il dubbio che ci verrà ok? no? sei disposto a fare sta roba per tantissime partite per poi alla ventesima barra trentesima partita iniziare a goderti veramente il gioco? secondo me cioè affinché la risposta a tutte queste domande sia sì devi avere una motivazione fortissima devi essere una specie di 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 eremita uno stilita che vive sopra una colonna e rimane senza mangiare per sei mesi ok ragazzi devi avere se no una passione proprio sterminata per il Giappone tra l'altro a proposito di idee brillanti che hanno avuto gli autori di questo gioco il gioco nel gioco non ci sono cavalli neanche per scherzo ok? cioè rappresenta solo battaglie fra gente a piedi ok? e gli autori li avranno pensato cosa mettiamo sulla scatola? ma sì mettiamo un bell'esercito di gente a cavallo cosa c'è di meglio così sembra allora già Bazzle for Japan ti fa venire in mente eserciti mappe che rappresentano grandissimi territori anche già dal titolo e dall'immagine si capisce che non hanno le idee chiarissime diciamo gli autori di questo gioco comunque appunto per tornare a bomba siete voi disposti all'impegno che questo gioco richiede? se la risposta è sì ragazzi è pieno di recensori che dicono porca mi sembra bello sto gioco evidentemente sono disposti a farsi carico di questo lavoro di questo sforzo di questo di questa di questa proprio no magari è una roba c'è qualcuno che si divertirà così ragazzi va bene ok se magari se fosse veramente un periodo sporico un'ambientazione che mi interessa tantissimissimissimo magari potrei avere anch'io forse anch'io avrei questo proprio non lo so ok però a me sinceramente pare che sia molto meglio dirigersi verso uno skirmish che sia più streamlined cioè secondo me un gioco breve ecco forse il punto è questo ok secondo me questo livello di studio e di approfondimento cioè io mi aspetto di metterlo in pratica in un gioco estremamente più strutturato proprio anche a livello di durata no a livello di cioè mi va bene che per godermi che ne so twilight struggle ok o twilight imperium io mi debba impegnare tantissimo mi va bene ma cavolo la stiamo parlando di giochi da tutta tutt'altra durata tutt'altro spessore tutt'altro cioè no cioè che lo stesso livello di impegno mi venga richiesto per una roba da 20 minuti cioè no non è un po' strano non è un po' non è un po' incongruente ecco secondo me questo gioco è la fiera dell'incongruenza da tanti punti di vista ok vi voglio fare un'ultima osservazione ragazzi questo gioco dal punto di vista produttivo è un disastro ok è un disastro anche qua si sentono molti che dicono bellissimo le miniature l'albero di cartone porca miseria ragazzi si beve qualunque roba la gente basta che gli dai una roba in 3d e perde la ragione ok questo gioco è prodotto molto male allora le miniature le sculture non sono neanche male ok le sculture di queste miniature non sono neanche eccezionali ne ho viste di meglio sono molto peggio delle miniature di The Witcher per dire ok però vabbè non sono neanche male solo che allora tutto fa pensare che sia stato fatto un po' tutto a risparmio in questo gioco anche a livello produttivo le miniature hanno un odore se hanno l'effetto di washing hanno un odore tremendo cioè sapete quell'odore di 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 boh non saprei neanche come definirlo sapete quando lavate la casa con un detersivo proprio cheap proprio il più economico ok che avete trovato nella peggior bancarella al mercato ok ecco un po' no? un po' sottili ragazzi porca miseria un gioco basato sulle carte che ha delle carte così no cioè sono veramente la mia versione includeva anche le bustine sapete che bella idea se tu imbusti il gioco non ci stanno più nelle loro sedi per dire anche l'intelligenza del modo in cui sono state sono state realizzate è stata realizzata questa scala cioè la campagna kickstarter è stata un disastro ok trovate molti voti negativi su board game geek proprio 0 1 no beh 0 forse non è possibile ma insomma 1 trovate molti voti bassi 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 anche perché la campagna kickstarter è stata un disastro cioè proprio è arrivata in ritardissimo il gioco è comparso prima sugli scaffali no? per esempio a esse ne lo potevi comprare ok questo gioco a esse ne lo potevi comprare io dovevo ancora riceverlo ok non c'è niente di peggio ragazzi non c'è niente di peggio per un bugger che ha pagato il gioco due anni prima no? e vede gli altri che se lo comprano prima di lui e lo giocano prima di lui e lui è lì che aspetta come un imbecille ok non c'è niente quindi è stata veramente gestita male questa campagna poi attenzione il gioco include anche una modalità cooperativa e una modalità in solitario guardate sono questi due sono questi due allora non li ho giocati non ho intenzione di giocare la modalità in solitario ok moltissimi guardate trovate su youtube tantissimi video di gente che lo gioca in solo però ok segno che questo gioco forse ha attirato molto i giocatori solitari anche in fase di sostegno della campagna kickstarter però ragazzi vi voglio dire dal poco dal poco che ho letto da quello che ho letto da quello che ho osservato non sono state fatte bene queste campagne in solitario a parte che cioè cosa pensate che siano tutti scenari questi guardate gran parte delle pagine sono occupate da queste illustrazioni tipo manga che per carità piaceranno piaceranno tanto magari a chi è appassionato però vabbè non hanno praticamente neanche testo cioè sono delle robe per quanto mi riguarda sta roba qua è del tutto inutile però anche qua forse è il mio approccio a essere a essere a no guarda non lo so cioè e poi cioè allora i nemici sono governati da mazzi di carte e per ogni scenario bisogna costruire il mazzo di carte e alla fine del nemico perché bisogna usare le carte presenti nel gioco ok quindi tu praticamente devi continuamente durante queste campagne disfare e rifare ma cioè passi più tempo a preparare gli scenari che a giocarli perché anche nel caso del solitario gli scenari sono molto brevi ok capite cosa intendo quando dico che il gioco è incongruente ok non puoi non puoi farmi una campagna in solitario basata su scenari che durano 20 minuti in cui ci metto mezz'ora a preparare i mazzi porca miseria dei personaggi controllati con il registro artificiale dai e poi devo anche smontarli devo mettere le carte tutte in un posto diverso nella scatola cioè ti prego amici che fate cioè anche qua sta roba vuoi farmi la campagna in solitario con i nemici governati da mazzi di carte devono essere già fatti sti mazzi di carte devono servire solo per quei nemici e io non devo mai più toccarle non devo poi metterle da nessun'altra parte non devo poi metterle fra le carte che uso in solitaria ok cioè scusate fra le carte che uso nelle partite multigiocatore dai cioè ragazzi questo gioco è un casino questo gioco è è ipertrofico è proprio testimonianza di un affollamento di intenzioni che manca del tutto di progettualità coerente e di bilanciamento non nel senso di bilanciamento fra giocatori ma bilanciamento fra le varie componenti del gioco ok basta amici direi che mi fermo direi che mi fermo qui so però che ragazzi là fuori è pieno di gente entusiasta di questo gioco quindi fatemi sapere se anche voi rientrate nella schiera degli entusiasti per questo gioco ok fatemi capire dove ho sbagliato dove sto sbagliando in realtà non stiamo sbagliando né io né voi non dovrei neanche dirlo ma insomma a volte visto quello che si sente che si sente dire o che si legge è meglio specificarla sta roba ok non si sta sbagliando nessuno semplicemente ognuno ha il suo approccio e la sua e la sua sensibilità ovviamente però ecco fatemi sapere cosa ne pensate sono molto curioso ok e ragazzi se vi piacciono le nostre le nostre analisi critiche se trovate utile il nostro lavoro di critica e di divulgazione è completamente indipendente anche questo gioco l'abbiamo comprato con i nostri sudati risparmi e francamente li avremmo investiti in altro forse ecco il senno di poi ecco dicevo se trovate che il nostro lavoro sia utile beh valutate la possibilità di sostenerci attraverso un'iscrizione al canale per esempio e iscrivendovi al canale qua su youtube avete accesso anche a video esclusivi solo per voi oppure potete andare sulla nostra pagina tp che trovate linkata qua sotto in descrizione e lì naturalmente potete sostenere vari livelli di pledge e avrete altri vantaggi avrete per esempio la possibilità di entrare nel nostro gruppo telegram ok quindi cari amici sosteneteci se ne avete la possibilità sappiate che l'unica l'unico modo affinché una critica e comunque qualunque progetto di comunicazione indipendente possa esistere possa sopravvivere e avere il supporto del pubblico cioè proprio non ce n'è ok perché se non c'è il supporto del pubblico bisogna cercare il supporto di produttori ed editori e a quel punto non sei più totalmente totalmente indipendente proprio non si scappa da questo da questa terzium non datur come dicono le persone colte ok va bene amici grazie ancora per essere stati con noi su questo video spero vi sia piaciuto e ci vediamo a tutti i prossimi contenuti qui sulla maschera riposta anzi sapete cosa vi voglio dire in conclusione prima accennavo al fatto che forse il gioco che più somiglia a questo che abbiamo giocato è Black Rose Wars di Ludus Magnus Studio ecco se volete se volete dare un'occhiata al nostro alla nostra analisi critica di quel gioco ve la linko qua a schermo così potete andare a darci un'occhiata ok grazie ancora ci vediamo ai prossimi contenuti qui sulla maschera riposta ciao ciao grazie a tutti i nostri spettatori